Continua il feeling della Dolomiti Bellunesi con la Coppa Italia. Grazie all'1-0 firmato Biancheri, la Luparense è il quarto avversario stromesso da inizio percorso e ciò significa che mercoledì 29 novembre allo stadio Ballarin di Chioggia la formazione dolomitica disputerà gli ottavi di finale contro l'attuale capolista del girone clodiense. I Granata sarebbero peraltro l'ultima sfidante triveneta, visto che chi supererà il turno se la vedrà poi nei quarti contro Ovaresina o Pro Palazzolo. Di certo risaliva ai 32esimi di metà ottobre contro la Virtus Bolzano l'ultima vittoria bellunese in stagione e il periodo negativo si è interrotto di nuovo in un insolito mercoledì serale al polisportivo di Belluno. A decidere i 16esimi contro i Padovani il gol di Pietro Biancheri è il 76esimo, abile nel finalizzare un'azione impostata da Alex Cossalter e proseguita da Baldassar, prima della firma del centroavanti Ligure. In precedenza match equilibrato con pochissime occasioni degne di nota, ma tra due squadre comunque desiderose di imporsi visto il momento non entusiasmante in campionato. Non può che gioire il tecnico Nicola Zanini, il quale tra l'altro è il primo allenatore della giovane storia dolomitica a portare la squadra nelle top 16 di Coppa Italia. Mi fa piacere perché abbiamo, penso, anche fatto una buona prestazione con tutti i cambi che abbiamo fatto, anche i giocatori che sono entrati hanno fatto una grande partita, sono molto contento, abbiamo giocato con tutta una squadra che ci teneva tantissimo a passare il turno, sono venuti qua per vincere, non per fare una passeggiata e quindi penso che sia una vittoria che fa molto morale. Siamo un pochino contati in questo periodo qua purtroppo per qualche infortunio, quindi nel mio tabellino di viaggio oggi doveva essere fatto qualche cambio in più e di qualche giocatore in più, però non è più stato possibile perché crampi e situazioni varie, però speriamo che la vittoria porti anche un recupero veloce dei giocatori per domenica. E proprio domenica torna al campionato dove la Dolomiti non vince da cinque partite, pur rimanendo comunque al quarto posto. La trasferta è dura ma al tempo stesso stimolante, in quanto propone la partita al tennis di Treviso in casa della seconda in classifica. La stessa avversaria eliminata a fine agosto nel preliminare di una Coppa Italia Serie D, divenuta ora sempre più intrigante.